Abbiamo domenica inaugurato il nuovo oratorio a Calcinelli, una struttura molto bella, funzionale e anche importante perché è una struttura molto ampia, al di là di quello che si può pensare, che è stata realizzata dalla Curia di Fano, che appunto dopo un anno di lavori, domenica ha visto la sua conclusione, è una partecipazione di popolo a queste inaugurazioni. Ci saranno state 4-500 persone sicuramente, hanno riempito tutta la via di fronte, perché evidentemente è un'iniziativa molto sentita nella frazione di Calcinelli di Coglio al Metauro. A me sta molto a cuore questa cosa, per più motivi, intanto perché è un luogo di socializzazione, di incontro, di dialogo, di pace, nella quale in tanti modi si potrà anche contribuire a tante attività in futuro. Si è sistemato uno spazio che era un'area più o meno incolta al centro di Calcinelli, oltretutto proprio di fianco alla delegazione comunale, dove dovrà divenire la sede del nuovo comune di Coglio al Metauro da qui ai prossimi anni. E una soddisfazione anche personale è stata la prima variante che io ho portato avanti da sindaco di Coglio al Metauro, perché il progetto lo si pensava da parte del nostro vescovo e della Curies, lo si pensava già da tempo. Infatti avevano già acquisito l'area, gli anni addietro, però c'era poi un problema di distanze dall'estate, per poter portare avanti l'opera si è dovuto a divenire ad una variante. Ed è una cosa che ho fatto con piacere, anche con qualche difficoltà, perché poi le burocrazie in questi casi si sprecano. Mi fa piacere vedere che uno dei primi atti amministrativi che come nuova amministrazione di Coglio al Metauro abbiamo portato avanti si è nel breve periodo realizzata e con grande entusiasmo e soddisfazione da parte di chi ne fruirà, da parte della cittadinanza e da parte della Curia, del vescovo che ci ha anche ringraziati.